Allora, sono felicissima perché io amo fare live in generale e amo soprattutto cantare prima di artisti che stimo molto. Per me Venero è un'artista con la maiuscola ed è una cosa che purtroppo negli anni si sta perdendo sempre di più e lo stimo da morire. Il genere è molto diverso da quello che ascolto io di solito, però comunque è davvero una delle poche persone che fanno quel genere che davvero ascolterei comunque e poi è una fatina per me, ogni volta che lo vedo mi pare una fada che gira così, quindi lo amo. Io ho iniziato a scrivere, dico sempre, ed è così per me stessa, cioè io avevo bisogno di sentirmi bene e per farlo ho trovato la mia valvola di sfogo che era la scrittura. Poi ovviamente quando magari i tuoi testi vengono posti un po' al pubblico ti arriva quello che è il riflesso, allora capisci come le tue parole riescano ad influenzare gli altri e riescano anche a cambiare gli altri. Io sono sempre una persona che dice di non essere né attivista né accompagnare le lotte di nessuno, io sono una persona che canta per salvarsi, mi fa piacere salvare anche gli altri, ma non è un compito di cui mi faccio carico perché sarebbe un peso in più e io lo faccio involontariamente e secondo me il farlo involontariamente è il modo più bello di farlo. Allora io sto scrivendo tanto che un po' la risposta ti danno tutti gli artisti per stare vaghi, io in più ti posso dire che mi sto approcciando molto di più alla mia voce, che è una cosa che io ho sempre tenuto nascosta perché non pensavo valesse tanto e invece sto scoprendo che anche la mia voce può comunicare, quindi non solo le mie parole, ma anche proprio il suono della mia voce, quindi mi sto concentrando proprio su questo punto di vista e mi piace tantissimo riscoprirmi sempre, rinnovarmi, ovviamente portandomi sempre un pezzo di quello che avevo prima perché è importante. Dove cazzo vai se non sai da dove vieni? Io nelle etichette, nelle major ci sono cascata, cioè io quando sono salita a Milano non sapevo neanche che cosa significasse far parte di un'etichetta, io ero convinta che per fare musica bisognasse pagare qualcuno e chi aveva più soldi faceva i video più belli, cioè questa era la mia idea, io non ero salita a Milano con la malizia e dire adesso mi trovo l'etichetta, vado da tizio X, da tizio Y, semplicemente io mi sono trovata benissimo con la mia etichetta che è Pluggers, è il mio manager e lui ha saputo benissimo consigliarmi cosa fare, quindi sono una persona che su queste cose purtroppo, però mi argomento davvero poco, mi interessa poco quindi andiamo a fare musica, amiamo a fare live, amiamo a vedere le persone, avere un contatto stretto con le persone che mi seguono e mi ascoltano, la burocrazia la lascio sempre a chi è capace di farla, io ho scelto altro.